È un sacro molto vicino, quello delle devozioni popolari, come ad esempio la tradizione di vestire le statue della Vergine e dei Santi. Ne parla una mostra in corso a Sondrio, in Valtellina. Ma anche il nostro tempo sa manifestare confidenza con il sacro, ad esempio nell'arte. Visiteremo per Pietrevive la chiesa parrocchiale di Arbedo, opera dell'architetto Giampiero Mina. A inizio giugno Milano ospiterà l'incontro mondiale delle famiglie. Avremo occasione di parlarne presto, ma già oggi a Strada Regina vi offriamo un primo assaggio che ci coinvolgerà.